E poi c'è Nicolas, dieci anni, da sempre convive con un grave handicap. Secondo i genitori è stato un errore dei medici durante il parto a provocargli questo enorme problema. Ora però il processo c'è ma rischia di passare dalla prescrizione. Abbiamo incontrato i suoi genitori. Perché questo bambino ha continuo bisogno di denaro. L'amore glielo diamo noi, perché noi sappiamo dare amore. L'amore glielo diamo noi a questo bambino. Questo bambino ha bisogno di denaro. E glielo devono dare perché gli tocca. Nicolas ha quasi dieci anni e dalla nascita è costretto su una sedia a rotelle in stato vegetativo. Per i suoi genitori un errore dei medici durante il parto avrebbe causato danni cerebrali permanenti. Non vorrei che lo Stato mi beffi per la seconda volta che faccia cadere la manomessione della cartella clinica in prescrizione di nuovo. La speranza di avere giustizia rischia di scivolare in prescrizione. ostacolata dai continui rinvii delle udienze. E la vittoria in primo grado, come il risarcimento ottenuto dal giudice, resteranno un diritto sulla carta. E intanto il papà di Nicolas, dopo aver perso il lavoro, è costretto a lasciare l'Italia. È da due anni che non sto lavorando per poter raccogliere mio figlio e mi costringono per andarmene all'estero perché qui non si può stare, qui in Italia non si può vivere, perché non ci badono a noi, perché noi per lo Stato siamo nessuno.